Buongiorno, ben trovati. Venerdì 2 giugno, festa della Repubblica. Oggi si ricordano i Santi Erasmo e Marcellino. Apriamo la nostra consueta rassegna stampa, come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro, le quattro edizioni. Iniziamo con l'edizione di Pescara. Il titolo principale riguarda la cronaca. Vedete in alto, doping, giovane culturista arrestato. Pescara ha sorpreso in un parcheggio a vendere una busta piena di farmaci vietati. Poi a centro pagina, 2 giugno, festa della Repubblica. Mattarella premia l'Abruzzo. In particolare un imprenditore di Sipio, simbolo della nostra regione. Vediamo anche le altre notizie. Il turismo volta pagina. In Abruzzo c'è il pienone. Poi la vicenda di via Riosto a Montesilvano, lo sgombero dei senegalesi. Il caso finisce in Parlamento. E poi il giallo, perché è sparito, così scrive il centro. Anche il figlio di Silvana Pica, la donna di cui tanto si è parlato negli anni scorsi, negli ultimi tempi. Anche lei scomparsa misteriosamente. In basso lo sport. L'Abruzzo dà la Coppa alla Juve. Gli sportivi è l'anno buono per il trionfo in Europa. Poi calcio a 5. Il Pescara perde in casa contro la Luparense ai rigori. E la gara finisce in rissa. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo. Violentò figlia e suocera a 9 anni. Condannato padre padrone di Roseto. Dovrà anche risarcire le due vittime. Poi vediamo gli altri titoli, in questo caso che arrivano da Teramo e provincia. Giulianova nell'inchiesta le telefonate di Mastromauro. Poi Sisma e scuole con 4 milioni può riaprire la scuola San Giuseppe. In basso, oltre al richiamo sulla partita di Coppa dei Campioni della Juventus e sull'ottimismo dei tifosi abruzzesi, si parla invece del Teramo Calcio perché quasi certamente sarà Sandro Federico, il direttore sportivo della formazione bianco-rossa. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Chieti. Crisi negozi, dateci parcheggi. A Chieti le lamentere degli esercenti della città. Ma c'è l'ok sugli affitti calmierati. E poi vasto quinto rogo, balnatore nel mirino. E poi a Chieti il matrimonio del sindaco con la vigilessa. Lo vedete dalla foto, foto piccola in questo caso perché è convolato a giuste nozze il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. In basso a Lanciano inaugurato dopo 18 anni il canile sanitario. Chiudiamo con le prime pagine del centro e con quella dell'Aquila. Progetto casa, ipotesi abbattimento, sperpero di denaro e scarsa manutenzione. Aperta un'inchiesta. E poi a Canistro, Santa Croce, la regione entra con la forza. Sul Mona parla il sindaco Anna Maria Casini che dice tasse da noi la lotta agli evasori. E poi in basso a Vezzano sette tombe del 400 scoperte fra le rovine. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. In alto narcotraffico nel ghetto etnico. Montesilvano, droghe e legalità diffusa all'origine del blitz. Interforza in via Ariostro. Gli stranieri sfrattati assediano il comune al grido vergogna. E poi vediamo altri titoli. In alto vedete anche sul messaggero come sul centro la notizia del matrimonio del sindaco di Chieti Umberto Di Primio che sposa a Napoli la bella Manuela. Poi la festa VIP Pescara, catena umana per salvare il pioppo monumentale. E poi lo sport, il MotoGP, Annone vuole il riscatto. Il Mugello, dice il pilota vastese, è la mia gara. E poi vedete l'articolo di spalla, capitale 2020, in corsa anche Teramo e Lanciano. Poi la cronaca che arriva dal vastese, ucciso da infarto mentre soccorre la madre malata. È successo a Monte d'Orisio. L'uomo muore davanti ai medici che prestavano assistenza alla donna. E poi all'Aquila, vedete a centro pagina con il corredo di foto, progetto case, il degrado. Arriva in procura. E poi Lanciano, una notizia che riguarda un incidente stradale, schianto in moto, quarantenne, gravissimo. Lasciamo il messaggero. Vediamo per chiudere la prima pagina del quotidiano. La città, inguaiati dal canale di scolo a mare. Giulia Nova, la dirigente, lo fece riaprire in pieno agosto dalla Patrimonio per favorire l'imprenditore. E poi vedete a centro pagina la foto, marcia sui laboratori. No al terzo traforo. Alcuni movimenti hanno organizzato la protesta per l'acqua. Allora, lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Poi andremo, tra poco torneremo a parlare, a vedere le pagine interne dei giornali che troverete oggi in edicole. Noi andiamo, come sempre, a dare uno sguardo veloce invece ai titoli, alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Renzi, non so se il patto regge, timori sui 5 stelle divisi. I centristi attaccano l'ex premier. Dunque ci sono polemiche anche per quanto riguarda soprattutto la legge elettorale. Poi Trump affossa l'intesa sul clima, l'ira dell'Europa. Dubbi tra i 5 stelle sulla legge elettorale. Renzi, conviene a loro, dice l'ex premier. E poi andiamo avanti, il fatto quotidiano. Gratti, il tedesco, esce Italicum, legge truffa. Altro che Germania. Capitalista, bloccati e multicandidature. Procasta, scrive il fatto quotidiano. E poi in alto si vota Opla. La manovra scompare. Il PIL riappare. Siamo al messaggero. Sale il PIL sconto sulla manovra. Crescita, sorpresa, più 1,2% nel primo trimestre. E il miglior risultato degli ultimi sette anni. E poi, come vedevamo anche dagli altri giornali, rottura tra Alfano e dunque i centristi e il PD. Crepe nel Movimento 5 Stelle. Renzi, patto a rischio. Noi ci siamo, dice l'ex premier. E poi Trump non ha l'accordo sul clima. Giro di vite sugli ingressi negli Stati Uniti. E poi in basso una notizia che riguarda la vicenda, forse ricorderete, dell'incendio ad una roulotte a Roma. Un roulotte dove vivevano dei cittadini di origine slava. preso il killer del camper. Aveva scippato una ragazza cinese. E poi è finita, morta, travolta da un treno. Siamo al tempo. E troppo pure per Cantone. Il caos Rai va in procura. L'ANAC chiude il fascicolo sul conflitto di interessi per la security. E poi, vedete, anche sul tempo si parla della vicenda, dell'incendio al camper. Il rom-killer fa il bis fermato per la strage del roulotte. E lo stesso che scippò una cinese che morì per inseguirlo. Siamo alla stampa di Torino. Spuntano i primi dubbi. L'intesa sulle elezioni già a rischio bocciature. Poi clima via dall'accordo per proteggere gli Stati Uniti, dice il presidente Trump. E poi Padoan chiede all'Unione Europea uno sconto di 5 miliardi. Siamo all'unità, vigilanza privata. Non cercatelo sul sito del Comune. Il capo della Polizia Municipale di Roma illustra il programma sul blog di Grillo. E poi il mattino di Napoli. Cresce il PIL, manovra più leggera. Primi tre mesi meglio delle attese. E poi Libero accusa shock di Banca Italia. Quanti giudici? Fannulloni, questo è il titolo principale. E poi vedete a centro pagina la foto. Virginia Raggi, Rom ad honorem, da la casa a Nomadi. E sfratta la bimba disabile. Scrive il quotidiano libero. E siamo ad avvenire. Il giornale della conferenza episcopale italiana. Cedolare perdita secca. La tassazione agevolata sugli affitti. Ha prodotto due miliardi l'anno di buco. Sconto ai redditi alti. Scrive avvenire. Poi siamo al dubbio. Stop ai giornalisti spioni. L'Europa li condanna. Sentenza della Corte di Strasburgo. Vietato pubblicare i segreti giudiziari. E poi vedete a centro pagina. Alfano mai più con il PD. Ma abbraccia Gentiloni. Il Gazzettino di Venezia. Alfano Renzi scontro e addio. Il Movimento 5 Stelle si spacca. E poi le banche al Governo chiedono di fare presto. Secolo XIX. Vacilla già l'accordo sulla legge elettorale. Primo trimestre. PIL a più 1,2%. Padoan chiede un maxisconto all'Unione Europea. La Gazzetta del Mezzogiorno. I radi Alfano con il PD è finita. Scrive il Gazzetta del Mezzogiorno. E dice il leader di Alleanza Popolare. Si toglie lo stesso affano i Sassolini. Da febbraio Renzi voleva far fuori Gentiloni. E poi sorpresa. Leggiamo anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Il PIL cresce più del previsto. Padoan ora sconto dall'Unione Europea. Il quotidiano La Verità. Un referendum sugli immigrati. Si può fare ecco come. E poi al voto con la legge più veloce. Mai approvata. 96 ore. E questo era l'ultimo giornale nazionale preso in esame nella nostra consueta edicola. Noi possiamo tornare a questo punto sui quotidiani di casa nostra. Ripartendo dal centro per andare a vedere insieme le pagine interne. Pagina 2. Festa della Repubblica. Di Sipio figlio di Mezzadro premiato da Mattarella come industriale simbolo. Ovviamente si parla di un abruzzese. Di Sipio che ha fondato la Raicam tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro. Cominciò 35 anni fa ripateatina. Rigenerando di notte le vecchie ganasce. E poi parla il professor Russo. Quel 2 giugno. Repubblicano. E oggi ovviamente si ricorda in questa festività. La ricorrenza del 2 giugno. La festa della Repubblica. Cambiamo argomento. Sprechi pubblici. Lavori fatti male. Progetto case a pezzi. Siamo all'Aquila. Verso l'apertura di un'inchiesta. Si indaga per difetto costruttivo. E non è escluso che vadano abbattute. Parla l'assessore Pelini che dice le abitazioni danneggiate saranno riparate solo se la spesa non è eccessiva. E poi precedenti. Balconi crollati e isolatori sismici. Non omologati. Vediamo in basso. Oltre 500 alloggi già abbandonati. Tre anni fa il grande esodo evacuati 22 piastre tra Sassa, Preturo, Arischia e Colle Brincioni. Andiamo avanti. Il lungo weekend. Il turismo volta pagina. Finalmente in Abruzzo c'è il tutto esaurito. I primi dati della regione promuovono in particolare le zone interne. Parchi e borghi. L'open day al culmine. Andiamo ancora avanti. Qui troviamo le pagine di cronaca nazionale con il PIL che cresce dell'1,2%. Con Alfano invece che per quanto riguarda la legge elettorale chiude con il PD e dice che è finita. E poi clima di tensione. Trapp abbandona l'accordo. Di Parigi pagina 11. Si parla del voto in Gran Bretagna. La main difficoltà. I laboristi in crescita. La incalza sul Brexit. Andiamo ancora avanti. L'ultimo titolo che ritroviamo in questo caso che riguarda la cronaca. Arriva da Roma. Il rogo di Centocelle. Fermato a Torino. Un giovane Roma. E siamo alle pagine delle province. Possiamo partire dunque da Pescara con un'operazione del NAS. Dei Carabinieri. Vende farmaci vietati. Arrestato un culturista. La sua auto piena di fiale anabolizzanti. La giustificazione del giovane che dice erano per me. E poi l'appello del comandante del NAS. Candelli che dice ragazzi non cedete alla chimica. E poi la cronaca pensionata sventa truffa dell'incidente. Sua figlia ha investito un motociclista. Ma lei non ci casca. Andiamo avanti. L'altro mistero. Siamo sempre a Pescara dopo la scomparsa della donna. Sparito anche il figlio di Silvana Pica. Leggiamo qui dalle pagine del centro. Lorenzo Berghella non dà più notizie. Da un anno e mezzo ma con la denuncia presentata dal padre rischia di perdere l'eredità. E poi parliamo dei forze dell'ordine della Guardia di Finanza. Con il cambio al comando della compagnia di Pescara della Guardia di Finanza. Il capitano Marco Toppetti prenderà il posto del capitano Sara Venturoni. Andiamo avanti. Istituti nel mirino dei ladri. Ladri in azione di notte nella scuola di via Milano. Scassinato l'armadio di ferro e portati via. 20 tablet e poi ancora cronaca. In questo caso paura in via Genova trova la biscia in auto. Mentre guida e poi in basso la movida sulla riviera riparte Penelope a mare. Dunque si organizzano gli esercenti bagnatori per la nuova stagione. Restiamo ancora a Pescara con un'altra notizia che riguarda la zona della Pineto. In particolare via De Cecco perché partiranno a breve i lavori per rifare i marciapiedi. L'importo è di circa di poco più di 100 mila euro. Noi andiamo ad ascoltare il consigliere nel primo servizio che vi proponiamo. Il consigliere del PD Emidio Lonchi che parla proprio del rifacimento della zona dei marciapiedi. della zona di via De Cecco. Consigliere Lonchi oggi in conferenza stampa avete annunciato a breve l'inizio dei lavori di riqualificazione di via De Cecco a Pescara. Siamo in zona Pineta. Sì, sono lavori molto attesi in una zona molto importante della nostra città. Sono lavori molto attesi perché si tratta di una zona che ha un deterioramento di asfalti e marciapiedi a causa delle radici degli alberi che appunto fanno di questa zona una zona prestigiosa e bellissima da un punto di vista naturale della nostra città. Quindi sono lavori che costeranno circa un po' più di 100 mila euro con i quali rimetteremo a posto l'asfalto, i marciapiedi e miglioreremo la viabilità della zona. Quando inizieranno i lavori? I lavori inizieranno nelle prossime settimane, procederanno a piccoli lotti in modo tale da non intralciare la fruibilità della via e non arrecare disagio a coloro che si regano al mare che è molto vicino alla via De Cecco. Questo dunque il servizio con l'intervista al consigliere comunale del PD di Pescara Emilio Longhi. Noi restiamo a Pescara con una denuncia del Movimento 5 Stelle apparecchio per i raggi mai utilizzato da quattro anni. La denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari alla ASL, ha detto Pettinari uno spreco da 250 mila euro. Il teleradiografo comprato nel 2013 ha abbandonato nel distretto di Pescara Nord. Allora noi nel servizio di Alfredo Primante andiamo ad ascoltare proprio la denuncia dell'esponente del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle segnala ancora una volta una problematica all'ASL di Pescara. In questo caso c'è un apparecchio che è stato acquistato ma è rotto e non può essere utilizzato. Sì, un teleradiografo che è stato acquistato dall'ASL di Pescara quattro anni fa ha pagato 167 mila euro ed è stato allocato presso il distretto sanitario di base Pescara Nord. Dopo due anni, dopo che era già scaduta la garanzia, cercano di metterlo in funzione, è assurdo già dopo due anni, ma si accorgono che è rotto un detettore e questo detettore costa oltre 70 mila euro perché appunto la garanzia non rientra in garanzia. Questa è una situazione di spreco, spreco di denaro pubblico, ma cosa comporta? Che l'utenza è costretta ad andare o verso la sanità privata accreditata o verso l'ospedale di Pescara che ha dei radiografi, ma lì si ingolfano le liste d'attesa perché prioritariamente in ospedale devono eseguire queste prestazioni ai ricoverati, non chi viene da fuori. Quindi questo è tutto il contrario di quello che ci aveva sempre detto il Presidente di Regione e l'assessore alla sanità Paolucci. Quando hanno depotenziato e declassato la sanità in Abruzzo, chiudendo gli ospedali, ci avevano raccontato che avrebbero potenziato la medicina territoriale. La medicina territoriale sono i distretti, ma se tu vai in un distretto e hai un'apparecchiatura lasciata in abbandono da quattro anni che non funziona, è il contrario del potenziamento, e il depotenziamento anche della medicina territoriale. Quindi l'utenza non sa più come risolvere questo problema. Naturalmente questi sono danni ulteriori e sono aggravi per l'erogazione anche di un servizio secondo standard di qualità e di efficienza. Segnalerete la cosa a Inas? Segnaleremo nei prossimi giorni a Inas questa vicenda per valutare eventualmente se ci possono essere danni erariali dall'abbandono di questa apparecchiatura e non l'ha messa in esercizio nei tempi idoni. Andiamo avanti, restiamo sempre sulle pagine della cronaca di Pescara dal centro. Lavori fermi al pronto soccorso consiglio l'8 giugno, lo stop imposto a marzo per la scadenza delle licenze edilizie. Poi simulazione di maxi emergenza in ospedale domenica, l'esercitazione con 200 operatori, prove generali in caso di terremoti o gravi incidenti. Andiamo ancora avanti, festa con i campionati nazionali, parliamo di sport con Lux Acli, e Pescara invasa da 2.500 atleti. Poi siamo a Montesilvano per parlare ancora della vicenda che ha portato allo sgombero delle case di via Ariosto. i senegalesi protestano e dicono ridateci le nostre case, protesta contro il comune, il sindaco dice respinta ogni mediazione, c'è l'interrogazione parlamentare e poi c'è l'esposto di sinistra italiana che chiede chiarezza sulla proprietà di quelle case. Se poi in ansia per malati e bambini il console africano sia al ripristino della legalità, le leggi vanno rispettate. Noi si parla qui dell'esposto di sinistra italiana. Nel prossimo servizio andiamo a sentire il coordinatore regionale di sinistra italiana che ha criticato lo sgombero delle case di via Ariosto e poi andiamo ad ascoltare invece il consigliere comunale di Montesilvano 2019, Anthony Aliano, che la pensa diversamente. Ascoltiamo. A 24 ore dallo sgombero di via Ariosto a Montesilvano da parte delle forze dell'ordine dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Maragno non si arrestano le polemiche tra favorevoli e contrari al blitz. Oramai da anni noi ci battiamo affinché quel quartiere torni a rivivere. La dignità dei cittadini che sono ancora lì hanno mantenuto la presenza nonostante lo scempio a cui sono stati costretti. Gli altri se ne dovranno fare una ragione e se hanno buoni propositi li mostrino. Io tra tutti gli suggerirei di portarseli a casa loro. Una situazione è questa che durava da parecchio tempo. Il sindaco ha parlato di ritorno alla legalità, però molte persone sono rimaste, anche persone oneste. Tanti cittadini extracomunitari che lavorano in Italia da tanti anni sono rimasti senza casa in mezzo alla strada. Per quelli noi sicuramente dovremmo in qualche modo fare un piano di integrazione sociale. Questo è poco ma sicuro. Rimane il fatto che per quei pochi che c'erano ve ne erano molti che davvero manifestavano tutta l'indole del canonico delinquente spregiudicato. Basti pensare che ieri in sede di Sgombero addirittura sono state riscontrate sostanze stupefacenti nonostante fosse risaputo che quel giorno lì le autorità sarebbero andate in luogo per lo Sgombero. Questo dimostra come Costoro non abbiano alcuna voglia di integrarsi ma solo voglia di disintegrare la nostra società. La legalità si costruisce costruendo percorsi di integrazione, si costruisce favorendo il rapporto di serenità tra le comunità che vivono nello stesso territorio e non mandando 300 agenti facendo uno sgombero con gli elicotteri, facendo un blitz che ci ha portato sulle pagine regionali per un atto grave secondo me perché è un atto in cui la politica abdica alla legalità e alle forze dell'ordine. Invece la politica deve risolvere e cimentarsi con la soluzione ai problemi. Vorrei sottolineare una cosa e questo credo sia grave. Poco tempo fa è stato ritrovato un ordigno esplosivo a Montesilvano. Allora in un contesto secondo me che è caldo con quello del tessuto cittadino montesilvanese fare un atto del genere è secondo me molto grave perché continua a fomentare l'odio fra i poveri e l'odio fra chi vive lì il territorio e vuole appunto vivere pacificamente. Questo è secondo me un atto grave perché la politica non deve mettere le mani fomentando ma deve mettere le mani per risolvere e per costruire soluzioni pacifiche. Noi restiamo ancora a Montesilvano sempre dalle pagine del centro. No al raddoppio dell'Atari, la rivolta dei ristoratori. Confcommercio invita alla mobilitazione contro il provvedimento comunale. Non hanno incrementate le tariffe sui rifiuti per i piccoli locali. E poi bandiere verdi, domani la cerimonia in città, le delegazioni sempre a Montesilvano di 134 comuni. In basso ci spostiamo a Moscufo, Color Max, Nuovo Polo nel piccolo centro in provincia di Pescara. L'azienda, 5 milioni di fatturato e tre nuove assunzioni, inaugura uno showroom. Siamo ancora nell'area metropolitana di Pescara. In questo caso ci spostiamo però a Francavilla. Auditorium scattano altre prescrizioni. Nuovo rinvio per l'agibilità della struttura. Ma il sindaco Luciani è fiducioso. Otterremo, dice il nulla osta, entro giugno. E poi a San Giovanni Teatino, ladra bloccata in casa, furto all'Ipercop. E poi promozione per quattro agenti della Municipale, sempre a San Giovanni Teatino. Nuovi gradi, ma stesso stipendio per l'attività svolta e i risultati ottenuti. Sempre a San Giovanni Teatino, Repubblica Neodiciotenni. Ci sarà una festa nel centro in provincia di Chieti. E poi a Francavilla, adozione della Fontana e Balli per Paese Alto in Festa. Ci spostiamo sempre, in questo caso in provincia di Pescara, nell'area Vestina e nell'alta Val Pescara. Partiamo da Farindola, perché gli avvocati del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, chiedono che l'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano passi all'Aquila. Per i legali di sindaco e tecnico comunale, le condotte più gravi si sarebbero consumate in regione. Ora chiedono di sentire un altro funzionario. E poi Penne, lunedì, si terrà la giornata dell'ambiente. Sempre a Penne, gran concerto per l'ansamble degli studenti. E poi Tocco Casauria, schianto in moto, ferito un poliziotto. In basso a San Valentino, in Abruzzo-Citeriore, su Penelalotto del 16 marzo. E caccia al vincitore dei 55 mila euro. Siamo alla pagina di Chieti e provincia del centro. Abbasto in questo caso, fuoco sulla riviera. Quinto attentato contro il balneatore. Bruciato il magazzino di ombrelloni al titolare dello stabilimento. Il Trabocco è rappresentante della piccola pesca. E poi a Napoli il sì di Umberto. Umberto Di Primio, il sindaco di Chieti, alla sua vigilessa. L'intera giunta alle nozze del sindaco. Il comune sarà retto per dieci giorni dal vice Giampietro. Auguri ovviamente anche dalla nostra redazione al sindaco di Chieti. Che vedete nella foto con la moglie. L'Aquila, canistro, controlli sulle bottiglie. Santa Croce, la regione, entra con la forza. Secco di rifiuto di Colella. Le forze dell'ordine aprono i cancelli. La reazione del patron, i blitz e l'ennesimo abuso. E poi a Celano. Due rapirattoni armati di pistola assaltano un supermercato. E poi ad Avezzano. Antidormi rimesso subito in libertà. Convalidato l'arresto del 33enne. Ma il GIP nega la reclusione. In carcere, chiesta dal PM. In basso, ad Avezzano, morto sugli sci, tutti assolti. Monte Magnola, impianti. Gestori e direttore erano accusati di omicidio colposo. E poi il ministro Franceschini sarà martedì prossimo all'Aquila. A sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra, Amerigo di Benedetto. Siamo alla pagina di Teramo del centro. Inferno in famiglia. Violentò figlia e suocera. Nove anni. Ad un 52enne di Roseto. E poi eseguita l'autopsia sul camionista morto schiacciato. Mentre al notaresco, botte alla madre per la droga, arrestato dai carabinieri dopo la telefonata della donna. Andiamo più in basso. I PM, il sindaco, sul Ruzzo, il ministro Mauro, nell'inchiesta sugli appalti a Giulianova. Ma non ci sono accuse contro di lui. E poi per la procura non c'è riscontro. L'ex assessore avrebbe tirato in ballo d'Alfonso. Queste le notizie che riguardano l'inchiesta sull'acqua. Mentre noi siamo arrivati alle pagine degli spettacoli e della cultura. Possiamo a questo punto dunque fermarci per qualche attimo. Andare a vedere insieme le provisioni del tempo per questo lungo weekend. Iniziato di fatto oggi con la festa della Repubblica. Poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6. Avevamo esaurito la lettura delle pagine dal quotidiano Il Centro. Possiamo dunque ripartire dal messaggero. Dopo aver visto in apertura di questo appuntamento del 2 giugno con mattino 6. Dicevo aver visto la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Andiamo a vedere le altre pagine. Pagina 2. Abruzzo verso il voto spunta il rebus dei collegi elettorali. I bacini del consenso non corrispondono a quelli provinciali. La bozza della legge indebolisce i big che restano alla finestra. E poi freni per le auto, vini per palatifini. Nicola Di Sipio, cavaliere del lavoro premiato dal Presidente della Repubblica, Mattarella. Siamo a Pescara, o per meglio dire in questo caso a Montesilvano, da ghetto etnico a centrale della droga. L'arruolamento di molti senegalesi nelle attività di spaccio alla base dello sgombero ordinato dal Comitato di Ordine Pubblico. Via Riosto, da mesi nel mirino di Polizia Carabiniere e Guardia di Finanza. Le indagini dimostrano l'illegalità diffusa. Vedete le foto e poi la rabbia degli stranieri sfrattati che protestano in comune. E poi, passando nella parte bassa della pagina, Pescara, Rogo e Allarme Bish, giornata di lavoro per i vigili del fuoco. E poi il blitz dei carabinieri del NAS che arrestano un culturista che è stato sorpreso a vendere sostanze dopanti di genere. Ovviamente è proibito una catena umana in Viale Kennedy per salvare il pioppo, l'albero monumentale tra quelli a rischio abbattimento. Gli ambientalisti chiedono che venga curato e messo in sicurezza. E poi l'ospedale si allena per le catastrofi. Domenica ci sarà la maxi-esercitazione. Poi su Rigopiano deve indagare l'Aquila. Nuova offensiva dei legali del sindaco di Farindola, Lacchetta. Il disastro colposo, dicono i legali, conseguenza delle omissioni della regione. contestato con un'istanza il trasferimento del fascicolo a Pescara, richiesta di interrogatorio per un altro dirigente. E poi a Caramanico, cambiando argomento, Caramanico capitale del turismo attivo, quattro giorni fra terme e natura. Siamo il parco che non vieta. E poi andiamo avanti per arrivare subito alle pagine dell'Aquila e dell'Aquila provincia. Apriamo con la vicenda del progetto case, acqua e zero manutenzione. Così crolla il progetto case, infiltrazioni ma anche pochi controlli, alla base del nuovo clamoroso caso. Di questo parliamo e andiamo ad ascoltare proprio il servizio curato da Daniela Rosone. Ancora problemi per il progetto case. Questa volta dopo il crollo dei balconi alle Newtown di Ciasi di Preturo, tocca a Coppito 2. Una maxi infiltrazione d'acqua, documentata dalle immagini, che ha messo in grave rischio il basamento della piastra. L'intera palazzina insomma rischerebbe di crollare e così è stato immediatamente disposto lo sgombero per ben 24 famiglie. È stata la dirigente comunale Enrica De Paulis a spiegare la situazione. Nel corso della normale manutenzione ordinaria, l'ingegnere responsabile della squadra ha notato una spaccatura orizzontale in corrispondenza del basamento sul lato dell'edificio. Si è insospettito e ha fatto aprire. La struttura perimetrale portante, fatta di pilastrine di legno molto ravvicinati, era immersa nell'acqua ristagnata. È stato necessario fare un buco. Rimuovendo la pavimentazione si è capito che ha infiltrazione d'acqua piovana, che è penetrata alla base, perché la guena di impermeabilizzazione non è stata fatta risalire a dovere come protezione. La struttura in legno è fatta bene, ma ha bisogno di una maggiore protezione. I pilastri alla base sono marci e si avvertivano degli scricchioli. Alcuni alloggi hanno avuto cedimenti evidenti. Abbiamo già allertato, ha detto la De Pauli, su una struttura ricettiva in attesa di reperire gli alloggi del progetto case. È l'ennesimo esempio di cattiva esecuzione dei lavori. È la Cosbao Spa, grande società di costruzione del Trentino Alto Adige, oggi però fallita, ad aver realizzato la palazzina 1 del quartiere del progetto case di Coppito 2. Il fatto emerge chiaramente dalle scale di realizzazione delle New Town della protezione civile. Cosbao ha realizzato anche la palazzina 2, a questo punto la prima che dovrà essere sottoposta a dei controlli urgenti, per vedere se ci siano lì gli stessi problemi, in particolare l'assenza di laguena protettiva. Ma Cosbao ha realizzato anche due edifici a Cese di Preturo, un edificio a Paganica 2, quattro edifici a Pagliari di Sassa e tre a Sant'Antonio. Ovviamente tutti saranno sottoposti a controlli. Restiamo all'Aquila, piano del sociale, raddoppiano i finanziamenti che passano da 3 a 6 milioni di euro. E poi oggi cerimonia del 2 giugno alla Villa Comunale per la Festa della Repubblica. Poi l'evento che riguarda l'educazione alimentare perché è scattata la seconda edizione di Erbaria. Andiamo avanti, l'addio di Cialente, si parla ovviamente delle prossime elezioni comunali all'Aquila, 10 anni più duri. Ma l'Aquila è qui, lunga lettera del sindaco uscente. Nessuno spopolamento lascia un progetto per fare della città una delle prime 50 d'Europa. E l'ex ministro Gelmini è stato all'Aquila a sostegno del candidato di centrodestra, ovvero Pierluigi Biondi. Scuole nei Maps è la testimonianza che la ricostruzione procede lentamente, ha detto la Gelmini. E poi in basso di Benedetto, il candidato invece del centrosinistra, si rivolge ai commercianti del centro. Serve cura per le attività produttive, ha detto l'esponente del centrosinistra. Siamo alla pagina di Avezzano sul Mona. Non rubò le foto se sul web assolto un giovane di Pescina era accusato di aver scaricato e diffuso le immagini di una trentenne aquilana. Il giudice ha deciso che fu la donna a inviarli all'amico e non l'altro a rubarle. Il PM aveva chiesto cinque anni. Ad Avezzano, scarcerato antidormi, Bracco minaccia di incatenarsi. Poi Roccaraso, aremonia al via la selezione cinofila. E poi in basso sul Mona, box abusivi nel canile, scatta il blitz della polizia. Poi ad Avezzano, tangenti, ricorsi contro il sequestro dei conti. Tornando invece in Valle Peligna e di nuovo a Sul Mona, scuole, la risposta della prefettura. I genitori dei ragazzi hanno detto che la lettera almeno ci restituisce la speranza nelle nostre istituzioni. Poi ci spostiamo a Canistro con il blitz della regione alla Santa Croce. Ancora polemiche. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero. L'Adsu conferma gli sfratti via tutti dalla ex caserma Pier Antoni. Il presidente dell'Adsu di Battista dice che è impossibile concedere la proroga alle 42 associazioni. Il programma di recupero prevede la piena disponibilità dell'immobile. E poi strade insicure. La provincia non taglia l'erba. E poi il 2 giugno, a giornata di oggi, forza nuova conferenza con Fiore. Appello dell'Ampi a non seguire questa manifestazione, questo incontro. E poi le nozze con il tricolore perché il sindaco di Chieti di Primio impalma la bella Manuela. Matrimonio e festa VIP a Napoli. In basso, ragazzi inquieti, a scuola con la droga, studente nei guai. Il 18enne fermato dai carabinieri con dosi di marijuana è stato denunciato dagli uomini dell'arma. E poi la cronaca, questa notizia luttuosa, triste, che arriva dal Vastese. La madre ha un malore, muore il figlio Carlo Festa, 65 anni, stroncato da un infarto fulminante. Subito dopo aver prestato i primi soccorsi alla mamma, il collasso davanti ai medici del 118, intervenuti per la donna. Le terapie immediate non sono servite a salvare il paziente. Vasto, bruciati gli ombrelloni al gestore dello stabilimento del Trabocco. A Lanciano, schianto contro un furgone grave, motociclista che è stato ricoverato con l'elisoccorso all'ospedale di Pescara. Ancora a Lanciano, bufera, cartelle pazze, pupillo. Il sindaco aumenta le rate, poi rifiuti. Ecotec prende tempo, ambientalisti soddisfatti ad Ortona. Poi ci spostiamo nuovamente a Lanciano. Grandi mattite alla mostra del fumetto. Da domani a domenica la rassegna al Viale delle Rose con i big del settore. E poi sedotta e truffata un anno all'ex compagno. Proseguiamo, ma siamo arrivati, sì, eccoci qui alle pagine di Teramo. Grasciano, rischio Pomezia, l'impianto passa alla Deco. La discarica situata vicino alla Teramo Mare ha creato tante criticità. Manca l'omologazione, una vera bomba ecologica vicino alla città. Procedura fallimentare. Rallenta i tempi, si legge in questo articolo di apertura della cronaca di Teramo. Poi Corso San Giorgio e Gazebo, commercianti muro contro muro. E poi crisi dissidenti, crisi politica al comune di Teramo. I dissidenti incalzano brutti, troppi veleni. In basso Val Vibrata, riti voodoo per farle prostituire, ma tre secondi ad un anno. Mentre per quanto riguarda l'industria, segnali di ripresa sul territorio della provincia di Teramo. Siamo a Giulianova, a Castrum, parte civile contro il comune. L'ipotesi avanzata dall'avvocato della ditta del Finosport, che venne scusa per ritorsione dei lavori dell'impianto. I due fratelli scarafoni arrestati si sfogano in una telefonata parlando di sistema mafioso della dirigente e del marito. Ancora Giulianova, banche senza luce, pensionati in rivolta, sempre nella città adriatica, così hanno annullato la notte dello shopping. Spostandoci in provincia, andiamo a Roseto, violentava figlia e suocera, condannato a nove anni. Padre stupratore, dovrà risarcire le vittime. Scaggionato il genitore nei guai a Tortoreto. E poi al Badriatica, nuovo ponte sul Vibrata, iniziati i lavori. A Roseto, Cerano Film Festival, canta Sherrod. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine del quotidiano La Città di Teramo. E poi, come sempre, nell'ultima parte parleremo di sport, delle squadre di calcio della nostra regione. Parleremo anche di calcio a cinque, perché ieri sera si è giocata al pala Giovanni Paolo II di Pescara la gara 1 della finale Scudetto tra Pescara e Luparense. La vittoria è andata alla formazione veneta dopo i calci di rigore, ma c'è stata baruffa, per così dire, al termine della gara, della partita, con anche l'intervento delle forze dell'ordine. Allora, aspettiamo un attimo per far visualizzare la pagina del quotidiano La Città di Teramo. Vediamo se riusciamo. Eccola qui, inguaiati dal canale di Scolo a Mare. Questo era il titolo principale del quotidiano Ginedicola, che avevamo già visto in apertura. Dunque, possiamo andare a leggere insieme le pagine interne. Partiamo da pagina 3. Mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso. L'Assemblea delle associazioni ambientaliste organizzerà una marcia pacifica ai laboratori. Poi Canistro. La regione confisca 8 milioni di bottiglie di acqua minerale. In basso, la cronaca che arriva da Pescara. Culturista terramano arrestato per spaccio di sostanze dopanti, sorpreso dai carabinieri del NAS, mentre cede una busta che contiene centinaia di fiale e pasticche. Siamo alla crisi in Comune a Teramo. I dissidenti hanno i numeri dalla loro, in vista del Consiglio di Martedì, Dalmati e AN non disponibili a mantenere il numero legale per i lavori. E in basso, la notizia che riguarda Teramo, candidata come capitale italiana della cultura per il 2020. Legge elettorale sarà guerra totale con il sistema la tedesca. I portatori di voti verso i collegi uninominali, i blindati dei partiti a Roma, punteranno invece al listino. Abbiamo sbloccato il nuovo padiglione del Carmine. Siamo sempre a Teramo dalla giunta via libera al progetto di recupero e ampliamento caldeggiato da Don Aldino Tomasetti. Corso, finalmente inizia la posa anche al centro. Siamo sempre a Teramo. La squadra è arrivata da Roma dopo le critiche. Lavorerà anche nei giorni di festa l'assessore titubante sui tempi. E poi sulla gammarana c'è l'allarme di Alfonso Marcozzi che dice quartiere abbandonato nelle mani dei cittadini maleducati. Proseguiamo, professione giornalista. L'applauso di tutti per i quattro vincitori. Ieri mattina a Corropoli la consegna delle borse di studio messe in palio per gli alunni. Borse di studio messe in palio dal quotidiano La Città. Andiamo avanti. Siamo alla pagina della Val Vibrata. Arresti e denunce al ferro di cavallo. Siamo ad Alba Adriatica. Nuovo blizze dei carabinieri nella zona nota per la microcriminalità. E poi Civitella. Via i lavori per ricostruire il ponte dello Stregone. E poi in basso Martinsicuro. Vagnoni promette interventi. Non è giusto pagare per l'inquinamento a monte. Tutti devono farsi carico dei problemi dei fiumi. Parla uno dei candidati sindaco nella cittadina Adriatica. Ancora Martinsicuro il progetto per avere la sua costa dei trabocchi. E poi la cronaca. Solto il padre accusato ingiustamente di violenza dalla figlia. Siamo alla pagina di Giulianova. Equilibri sempre più precari nel PD Giuliese. Vasanella e Filipponi sui binari opposti rispetto alla tenuta del sindaco Mastro Mauro. In basso. Protesta per la chiusura prolungata del centro sociale. Parliamo dell'annunziata con la struttura che è inutilizzabile da mesi. E poi di spalla vedete il Festival delle Bande. La nuova delibera di giunta cambia location al mercatino tipico. E poi disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale a Giulianova. Mazzette in comune inguaiati da un canale di scolo a mare. In Chiesta Castrum sono tre gli appalti. Secondo la procura vedrebbero coinvolti di Gian Battista e di Giacinto. E poi la notizia che riguarda la Guardia di Finanza perché Sara Venturoni alla guida delle fiamme gialle di Giulianova. In basso. Blitz della Guardia Costiera e multa da 4.000 euro. Sequestrati tre quintali di vongole irregolari a Giulianova. Siamo alla pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Partiamo dalla cronaca. Violenza sessuale su figli e suocera. Pescatore condannato a nove anni. Il giudice mette fine al clima di terrore instaurato in casa da un 51enne. Rosetano. E poi notaresco. Picchia la madre per comprare la droga. 44enne in manette. E poi sulla vicenda Piomba-Fino. Esposto sulla doppia assemblea. Tenuta nello stesso giorno. Infine in basso. A fondo pagina ci spostiamo a Pineto. Un progetto per spiegare la differenziata ai bambini. Una rappresentanza della scuola primaria. Sarà infatti ospite della fiera Ecomondo di Rimini. Proseguiamo. Ancora pagina dell'Interland Terramano della costa della provincia di Terramo. Siamo a Roseto. Vetrate per i coranti. Il parroco chiede aiuto ai fedeli. Padre Antonio su piazza Primarta. Dice la parrocchia non ha alcuna intenzione di privatizzarla. E poi sempre a Roseto. In basso via l'Europa. Frattari spegne le polemiche. Le modifiche decise dalla giunta Pavone. L'assessore comunale risponde ad Angelo Marcone. Personalmente sono favorevole a tutte e due le soluzioni. Andiamo ancora avanti. La pagina della cultura con la caricatura con cui il Vate fece il bot. Così Svaldo Barbieri scherzò con D'Annunzio. Andiamo ancora avanti. Per arrivare così alla pagina di sport del quotidiano La Città. Che parla del Terramo. Perché lunedì probabilmente arriverà l'ufficialità con Sandro Federico. Che dovrebbe essere a questo punto è quasi certo. Il nuovo direttore sportivo della formazione Biancorossa. E noi a tal proposito andiamo a vedere il servizio di Jacopo Forcella. Il Terramo sembra ormai aver scelto il suo prossimo direttore sportivo. A meno di clamorose sorprese sarà Sandro Federico a sedersi dietro la scrivania Biancorossa per costruire la formazione della prossima stagione. In realtà l'accordo, quello verbale c'è già da qualche tempo, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. E in caso di fumata bianca da quel momento in avanti Federico spetterà a scegliere in accordo con la società il nome del nuovo allenatore. Tutti gli indizi almeno per il momento portano ad Ottavio Palladini che con Federico ha un rapporto consolidato e che a San Benedetto ha dato i suoi frutti finché i rapporti con il presidente Rossoblu Fedeli non si sono deteriorati. L'ufficialità dell'arrivo di Federico a Terramo arriverà nei prossimi giorni magari già all'inizio della prossima settimana e poi il diavolo dovrà sciogliere anche la riserva sul tecnico. Ci sarebbe anche l'opzione Luca D'Angelo, reduci dall'esperienza Bassano. In questo momento però c'è anche una piazza in fibrillazione che attende con ansia le prossime mosse di Campitelli che potrebbe parlare presto e chiarire le linee per la prossima annata prima di prendersi un piccolo periodo di vacanza. Nel frattempo dovrà già aver sistemato l'assetto societario e tecnico in modo da arrivare ai primi di luglio con una squadra che abbia già una parziale ma nuova fisionomia. Anche perché il Terramo l'anno prossimo non potrà davvero più sbagliare. Restiamo sulla pagina di sport, sulla prima pagina del quotidiano La Città per parlare di basket perché Campi deve vincere per rimanere in vita questa sera gara 3 in casa della formazione abruzzese dopo la doppia sconfitta a Montegranaro per i Farnesi obbligatorio un successo per allungare la serie. Allora lasciamo la pagina sportiva del quotidiano La Città e passiamo a vedere le pagine dello sport del centro prima pagina, anzi doppia pagina del centro per quanto riguarda la finale di Champions League di domani sera a Cardiff tra Juventus e Real Madrid con l'Abruzzo che si gioca alla Coppa fame ed entusiasmo la Juve può farcela addetti ai lavori sportivi anticipano la sfida con il Real che vale la Champions e vedete le interviste con le dichiarazioni degli intervistati degli uomini delle donne di sport della nostra regione e poi Buffon sono qui per chiudere un cerchio dice il portiere Juventino poi arriviamo al Pescara alle manovre dei Biancazzurri perché si parla ovviamente dopo la fine del campionato di mercato Pescara-Sandoria asse caldo Ivan e Bonazzoli nel mirino vertice di mercato con i blucerchiati in attacco idea Dionisi del Frosinone e poi con i Doriani si è parlato della possibile cessione di Zampano, Biraghi e Coulibaly ma occhio anche a Brugman dunque potrebbe andare in porto un mega scambio tra il Pescara e la formazione blucerchiata e poi Nostalgia Junior Pescara nel cuore 27 anni fa l'addio del brasiliano capitano anche del Pescara in Serie A e poi invece in basso si parla di Serie D dell'Aquila perché Fioravanti entra in società lunedì ci sarà la cessione del club con De Simoni c'è l'imprenditore Romano andiamo avanti Lega Pro il Teramo sceglie Federico e lui il direttore sportivo abbiamo appena visto il servizio di Jacopo Forcella e poi parte la Tri Cup domani c'è Fiona May nella cittadina Ducale e poi in basso il basket Petrucci lancia campi all'assalto stasera parliamo di basket di Serie B gara 3 della finale playoff contro Montegranaro e poi andiamo avanti saltando la pagina di calcio giovanile per arrivare invece al calcio a 5 alla prima finale scudetto di ieri sera al pala Giovanni Paolo II di Pescara Pescara cade con la Luparenze che si impone lo vedete anche dal tabellino per 7 a 6 dopo i calci di rigore ma alla fine scene da Far West vedete anche qualche immagine con una rissa che c'è stata proprio dopo la fine della partita tra i giocatori delle due squadre tensione bocche cucite nel dopogara silenzio stampa dei biancazzurri che minacciano di non giocare la seconda partita lasciamo lo sport dalle pagine del centro per andare a vedere insieme invece le pagine dello sport del quotidiano il messaggero prima di salutarci ripartiamo dal Pescara io e Zeman finalmente insieme parla Mirko Pigliacelli che è il portiere candidato a difendere la porta del Pescara nella prossima stagione di Serie B Pigliacelli è stato protagonista quest'anno di una stagione sfortunata con il Trapani poi retrocesso in Lega Pro ma Pigliacelli è stato votato come uno dei migliori portieri per rendimento dell'ultimo campionato cadetto ricordiamo che nel Pescara c'è anche Fiorillo sotto contratto Fiorillo che avevamo ascoltato proprio due giorni fa ai nostri microfoni dunque è presumibile che ci sarà una lotta tra Pigliacelli e Fiorillo per vedere chi sarà il portiere titolare del Pescara nel prossimo campionato di Serie B e poi ancora Pescara solidarietà in questo caso il Vicenza e la amo per Davide Gagliardi mentre per quanto riguarda invece il Teramo e dunque la Lega Pro per la panchina è lotta fra Antonino Asta e Palladini dunque tra l'ex tecnico della Feralpi Salò e Ottavio Palladini che in questa stagione per alcuni mesi ha guidato la San Benedettese prima dell'esonero in basso si parla di motociclismo del MotoGP con il pilota vastese Giannone che dice ho voglia di riscatto al Mugello è la mia pista preferita nella quale ho sempre fatto bene siamo alla seconda pagina dello sport del messaggero l'apertura è dedicata al calcio a 5 Pescara a K.O. ai rigori la gara finisce in rissa la Luparenze rimonta due gol in gara 1 Scudetto e finisce 4 a 4 poi 7 a 6 dopo i tiri dal dischetto interviene al termine la polizia per placare gli animi a tal proposito vi dico che nel corso del TG di oggi della prima edizione e delle altre edizioni vi proporremo ovviamente un servizio sulla sfortunata partita giocata ieri sera dalla formazione Bianca Azzurra alla pala Giovanni Paolo II dinanzi a quasi 2000 spettatori e poi invece parliamo di basket del Campli perché oggi vita o morte a Montegranaro in gara 3 per quanto riguarda questa la finale finalissima playoff per la promozione in serie A con i Camplesi che hanno già perso le prime due partite con la formazione marchigiana però probabilmente in questo titolo c'è un errore perché la gara dovrebbe giocarsi almeno per quello che sappiamo noi non in terra marchigiana ma a Campli e poi si parla di serie D parliamo di calcio per quanto riguarda l'Aquila Fioravanti Gizzi Mancini e Pensi soci dell'Aquila la vecchia dirigenza potrebbe restare solo pagando i debiti all'erario e poi a Montesilvano le finali nazionali della Soccer League di calcio a 5 si terranno nelle prossime settimane poi in basso si parla di calcio di eccellenza perché Francavilla pensa alla finalissima con il Fabriano il Bombergali ha già messo la formazione marchigiana nel mirino per la D infine il rugby con Zaffiri che dice l'Aquila in finale dimenticata gli atleti invece fanno proseliti nelle scuole e siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di venerdì 2 giugno con Mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito e vi rinnovo l'invito a seguirci per il prossimo appuntamento informativo sulla nostra rete come sempre alle 14 oggi per la prima edizione del TG6 di giornata e vi rinnovo per la prima edizione per la prima edizione e vi rinnovo